buongiorno buongiorno ragioni a tutti sono zio vinto come vedete sono commossa sono commossa perché voi mi tenete Irina io vi ringrazio tanto avete fatto hanno scritto televisioni giornali il Corriere dei piccoli famiglia di cristiani avevano scritto tutti che Irina che fine ha fatto Irina che fine ha fatto Irina che fine ha fatto Irina tutti quanti mi hanno scritto la solidarietà umana a qualcosa di animale io non lo so è la scheggia che mi ha affermato comunque sono contento sono gioia di contendenza che Irina è tornata io lo sapevo che non mi aveva lasciato Irina dopo la lettera della mina quella minatoria Irina è tornata e per quanto è tornata per San Valentino lo sapevo la festa la festa degli innamorati e Irina è così e guardate cosa mi ha regalato ecco qua i soldi della pensione non erano spariti lei mi ha scritto il biglietto perché si è sentita in causa ha scritto caro Zio Vito amore mio perenne sempre mente io sono qui prostrato e perdono perché ho fatto una cazzata per farmi perdonare oggi che la festa di San Valentino io ti sarò vicino per sempre e perché ho andato via alla Romania ha detto lei ha preso i soldi ha fatto bene perché ha pensato a me un realo per Zio Vito che ecco l'ha vestita a festa mi ha comprato la giacchetta nuova quando sarà dalla casca e poi mi ha portato il perizomba che aveva lei perizomba che aveva lei perizomba che la faccio zomba su pulietta e poi mi ha portato quest'altro perizomba e non è suo e questo è il regalo che mi ha voluto regalare una notte d'amore insieme a tutti e tre insieme io Irina e Irina gracciano poco ma non fumo nero rumene la cugina di Irina perché noi siamo molto aperti lei è molto aperta lei è troppo aperta secondo me Irina e mi ha voluto fare storiello che io ho sempre desiderato da quando stavo in trincea che stavo con i con i toni tutto un volanato sotto i bombardamenti e il desiderio di stare in una notte d'amore e pazza tutto quanto insieme due o tre umani e lei è stato così Irina mi ha mi ha gradito e mi ha portato alla cucina mi ha chiesto per d'ora scusa per i soldi e ha detto te li darò il zio Vito comunque nel frattempo il zio Vito mi ha lavato la terra dalla cazzo alla pensione perché il zio Vito non era mica lucciuto diciamo così ancora non fosse più fesso il zio Vito che diciamo di stare a fare fonte e quindi adesso signori miei Giovi e San Valentino che posso fare? Berretti da bersagliere! Tototong! Non siete capi niente! Tototong! Quei mortali! Non siete mica salve! Questa fiamma che cazzo al zio Vito facciamo flicca e flocca in questa cagata! Flicca e flocca sono Irina e Rana! Ma ci bolla troppo con la parentesi Graffen! Scusate ma ora a fare il servizio lì a fare la festa degli innamorati! Irina tesoro! Irina tesoro! Ora vieni la sua vita! Non siete capi niente! Non siete capi la mezzanotte! E quando arriva i tre bottoni! Tutotong! Tutotong! Beh! Ciao ciao! Sempre al vostro e al loro fra poco! Ciao!